Ho fatto shopping per una ragazza e mi sono divertito. Che cosa mi sta succedendo? Che ne dite? Wow, un look tutto nuovo, che meraviglia! Stai davvero benissimo. Grazie, mamma. Mi dai la maglietta dei Rolling Stones? Mi piace quella lingua lunga. Bleh! Corey? Non sono sue, io non le ho preso niente. Ah, Sean! Sono tutte per Maya. No, è troppo. Katie, perché lavori tanto? Per pagare le bollette, Sean. Katie, perché lavori tanto? Perché ho una figlia di cui mi devo occupare. Proprio così. Io ho solo me. Viaggio leggero, mi bastano una tazza di caffè e un sandwich. Così ho messo via un po' di soldi. Quanti più o meno? Più o meno così, eccoli là. E adesso sono andati. Ma prendermi cura di qualcun altro mi fa piacere. Maya ti adora, e lo sai. Più va avanti questa storia, più le si spezzerà il cuore quando… Quando cosa? Quando inizierà a mancarle la terra sotto ai piedi. Katie, perché non ci godiamo la giornata? Tu paghi le bollette, giusto? E io le compro qualche vestito. Non possiamo goderci quel sorriso? Suppongo di sì. Tutto ok? Tutto ok. Grazie mille. Sì, però non gli hai detto che pagare le bollette non è apprezzato da tua figlia come comprarle un nuovo guardaroba. Ha fatto una cosa gentile. Ho smesso di aspettare la Gloria molto tempo fa. Ehi, tu! Chi è la tua mamma? Quella bella biondina. A lei tocca il lavoro sporco. A me è quello divertente. E quei regali sono anche da parte sua. Non te lo dimenticare. Non lo farò. Grazie, mamma. Questo per che cos'è? Niente. Tutto. Sai, Maya, puoi prendere in prestito i miei vestiti quando vuoi. Grazie. Tu non puoi toccare questi. Non si tratta dei vestiti, capisci? È perché qualcuno ha fatto questo per me. Certo che non si tratta dei vestiti. Si tratta di te. Lo adoro. Ma guardami! Yeah! Devo dirti una cosa. Dimmi tutto. Ma non voglio che ti agiti. Non lo farò. Perché se ti agiti troppo rovinerai tutto. Ti prego, non farlo. Lo adoro! Lo so! Yeah! È possibile che io mi sia sempre sbagliata. E forse avevi ragione tu. Mi piace quando ho ragione. Su cosa avevo ragione? Non ti emozionare troppo, ok? Sì, ti prometto che non mi emozionerò. Credevo che la speranza fosse per i creduloni. Lo adoro! Questa adesso sono io! Ma forse se non speri di avere troppo, ma speri di avere una cosa sola, quella potrebbe avverarsi. È stata una bella giornata. Voglio sperare che ce ne sia un'altra e vedremo che succede. Non ti emozionare troppo adesso. Dai, butta fuori. No, adoro! Ma che io! Yeah! No! No! No, Dani! Girl Meets World, a Disney Channel.